Buongiorno a tutti, sono Davide Masi, uno dei titolari del Polobobolatorio 16102 di Imola, una realtà che nasce nel giugno 2015 per rispondere alle necessità del territorio di avere un punto di riferimento a 360 gradi che andasse dall'indagine diagnostica alla fisioterapia, passando per le visite specialistiche fino alla riabilitazione e reatletizzazione del paziente. La struttura si compone di 7 box per terapia fisica, 3 ambulatori, una palestra attrezzata di 200 metri quadrati. Lavoriamo con diverse specialistiche che vanno dall'ortopedia alla fisiatria, passando per l'endocrinologia fino alla neuropirurgia. I collaboratori in totale sono 25, tra medici e fisioterapisti, più 3 ragazze alla reception e 2 che seguono la parte della palestra. Il fatto di poter servire un servizio a 360 gradi è stata la chiave del nostro successo in quanto il paziente può usufruire dalla visita specialistica fino alla presa riabilitativa senza cambiare interlocutore, quindi rimanendo sempre all'interno della stessa struttura. Grazie a questo in pochi anni si è permesso di diventare uno dei punti di riferimento sul territorio, tant'è che ad oggi superiamo le 15 mila prestazioni annue. Questo successo abbiamo, l'abbiamo replicato a Medicina, che è un paese vicino a Imola, che si chiama Polo Metrologista di Medicina per replicare quelle che sono le stesse specialistiche, la stessa modalità operativa che adottiamo qui a Imola. Allora, come software gestionale abbiamo scelto Vettore Medical perché lo ritengo ad oggi il miglior software che sia sul mercato per le strutture sanitarie, in quanto permette di gestire con un unico clic dalla prenotazione dell'appuntamento fino alla fatturazione finale. Come titolare utilizzo molto la parte di Business Intelligence, sia per vedere quelli che sono i centri di costi di ricavo, che mi permette di vedere ogni singola risorsa della mia struttura, quanto mi sta rendendo, e più che altro posso vedere tramite la gialla di utilizzazione da dove provengono i nostri pazienti, in modo che se ho delle aree scoperte nelle vicinanze posso fare pubblicità mirata. Un altro grosso vantaggio è il fatto di poterlo utilizzare ovunque sia, sia sul divano di casa, sia in ferie dall'altra parte del mondo, basta una attenzione internet e posso sempre tenere sotto controllo quello che succede all'interno della sua struttura.